Tra 5 minuti comincia la rivoluzione 21 ottobre, venerdì, un caro saluto da Davide Mattiello e dal Riccio di Benvenuti in Italia Ieri siamo arrivati in Tunisia, oggi siamo a Sidi Bouzid la città ai cui seggi presideremo domenica 23 ottobre un tema ci sta colpendo nelle discussioni a cui stiamo assistendo quella tunisina, una rivolta o una rivoluzione? Perché è rivolta se butti giù un regime e qui l'hanno buttato giù, un regime autoritario, violento, mafioso ma è rivoluzione se dopo averlo buttato giù ne riesci a tirare su uno nuovo, migliore del precedente più giusto, più libero quella tunisina, rivolta o rivoluzione? lo diranno le elezioni, l'esito delle elezioni e il lavoro politico che si saprà fare all'indomani e per i mesi successivi noi, i Benvenuti in Italia, io e il Riccio siamo qui rappresentando tutti coloro che vogliono stare accanto al popolo tunisino e tutti coloro che vogliono rammentarsi che abbiamo un compito riconsegnare in Italia la nostra Costituzione alla storia del nostro paese Tra cinque minuti comincia la rivoluzione 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 Tra cinque minuti comincia la rivoluzione